San Giovanni Tiatino, come tutti i comuni, come tutti i colleghi di Cia della Tratta Roma-Pescara, siamo favorevoli al raddoppio perché bloccare l'economia, bloccare il sviluppo è da incoscienti. Quindi siamo favorevoli ma un raddoppio che non penalizzi. Soddisfatto il sindaco di San Giovanni Tiatino, Giorgio Di Clemente, dopo l'incontro con Vincenzo Macello, commissario governativo al progetto del raddoppio della ferrovia, arrivato in Abruzzo insieme a Marco Marchese, direttore investimenti area centro di rete ferroviaria italiana. per verificare personalmente le criticità che entreranno nelle proposte di variante. Presente anche l'ingegnere Ivo Vanzi, professore ordinario di tecnica delle costruzioni all'Università d'Annunzio di Pescara, che ha presentato il suo lavoro con le possibili modifiche al progetto originario. C'è stato questo confronto, seguirà il confronto con i tecnici del RFI e il dottor Vanzi per cercare di valutare eventuali modifiche che non danneggi il paese, non danneggi il territorio. Che cosa si è detto dall'altra parte, da RFI? C'è la possibilità di capire, di ascoltare veramente qual è la voce dei sindaci e dei cittadini? Fino a ieri ero alquanto preoccupato, oggi lo sono un po' meno, perché ho trovato due tecnici, due veramente super tecnici, qualificatissimi, che hanno ascoltato sia noi amministratori che alcuni cittadini interessati, purtroppo dall'abbattimento delle case e da altre preoccupazioni. Ho visto in loro la riflessione e questo mi dà forza e speranza che il discorso vada avanti e possa portare dei giusti e buoni risultati.